Sono stati ritrovati poco dopo la mezzanotte i tre sciatori alpinisti di cui non si avevano notizie dal pomeriggio di domenica. I tre, due uomini e una ragazza di Lanciano, Cepagatti e Bisenti, sono stati ritrovati vicino Valle D'Angri, frazione del comune di Farindola. Ad un primo racconto i tre, mentre erano sulla via del ritorno dopo un'escursione, sono stati rallentati dalla neve e il sopraggiungere della notte ha reso difficile il loro avvicinarsi al punto di partenza. Le ricerche sono partite nel pomeriggio, quando i familiari non li hanno visti rientrare e, nell'impossibilità di contattarli telefonicamente, hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri al 118, i quali hanno attivato immediatamente il protocollo di soccorsi in montagna, allertando il soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo e il club alpino italiano, partiti dalla stazione di Penne, a pochi chilometri dal punto di ritrovamento. Inizialmente i familiari avevano indicato le montagne intorno al Rigopiano come luogo delle ricerche, località già tristemente nota per la valanga che travolse l'hotel nel 2017, causando 29 vittime. Mentre a molti, alla comparsa della notizia, è tornata in mente la recente tragedia del Monte Velino, quando quattro ragazzi, il 25 gennaio scorso, furono travolti da una valanga e trovati morti dopo 25 giorni di ricerche.